ragazzi buongiorno allora per oggi tutta la settimana il fine settimana visto che dovete preparare la prova rispetto alla vostra famiglia quindi raccontare e disegnare la vostra famiglia iniziando dal l'albero genealogico quindi tutte le varie divisioni che ci sono ci mettiamo io ne abbiamo tutte le varie cose importanti da dire fate il disegno fatto il disegno poi mi raccomando questo per la settimana prossima già lo sapete il nome quindi chi è per esempio se avete dei fratelli mio fratello si chiama juan a dieci anni e va a scuola pure potete dire io ho una sorella si chiama maria ha 22 anni e lavora come segretaria quindi potete fare anche questo ok vi mando per il lavoro da fare diciamo in classe però ovviamente lo fate a casa vi mando fatelo se non lo avete già fatto questa pagina che ho già vi ho dato da ricontrollare quindi provate a rispondere con questo il testo ve l'ho già mandato sui ducai per rispondere a pagina 78 fatto questo domani cioè scusatemi oggi stesso vi mando due testi un testo su sara e un testo su badu sulla famiglia di badu di questo ragazzo rispondere anche a quelle domande e inviatemi le foto vi aiuta perché così finiamo completamente la parte sulla famiglia che sarà anche una prova quando ritorneremo a scuola più la per il parziale qualsiasi dubbio per favore scrivetemi ciao ciao